Ciao! Volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto in due giorni di trasferta. Sono stata a Firenze per lavoro e quindi ho fatto alcuni acquisti. Prima cosa sono passata alla Coin dove c'è il Corner Mac e ho preso tre cosine. Era andata lì principalmente per prendere Craving e Relentlessly Red. Craving l'ho trovato e l'ho preso, tra l'altro è anche quello che ho su adesso. Ed è questo qui, è un Amplified, ed è questo qui. Il colore è questo, molto molto bello. Eccolo qui. E mi piaceva, cioè lo volevo prendere da parecchio e l'ho trovato e quindi l'ho preso. E adesso mi sembra che vengono 19 euro i rossetti Mac. Poi cercavo Relentlessly Red, ma non c'era, l'avevano finito. Ho visto il tester di Kelly Yam Yam, l'ho swatchato ed è veramente bellissimo. Però purtroppo avevano solo il tester in negozio, quindi non l'ho potuto prendere. Ma swatchando tutti i rossetti comunque ne ho preso un altro. E' un Retromatte ed è All Fireed Up. E' questo bellissimo colore qui. Ed è questo qui. Che sembra un semplicissimo rosso, ma non è. E' un rosso però che ha del fucsia o del corallo. Non so come definirlo sinceramente. Secondo me ha del fucsia all'interno. E' molto bello comunque. E' anche questo 19 euro. E l'altra cosa che ho preso è un Paint Pot. Li stavo guardando tutti. E quello che mi ha colpito di più è questo Stormy Pink. Che è praticamente un malva con dei riflessi grigi. Io questo già l'ho utilizzato ed è questo qui. Io trovo un colore veramente bello. Soprattutto da utilizzare magari anche da solo su tutta la palpebra mobile. Ed è questo colore qui. Non ho altri Paint Pot di MAC. Quindi starò a vedere insomma come si comporta. Magari proverò prima ad utilizzarlo con un primer sotto. Perché non so se poi mi va nelle pieghette. Insomma, staremo a vedere. Poi sono passata da Kiko. Perché volevo guardare la nuova collezione. Sicuramente la cosa che mi ha colpito di più è il packaging. Perché lo trovo molto carino. Soprattutto lo trovo più curato rispetto agli altri packaging che fa solitamente Kiko. Della nuova collezione ho sbocciato i matitoni, quelli ombretto e sono fantastici. Non li ho presi perché sinceramente non mi sapevo decidere. Però sono fantastici perché sbocciati sulla mano io li ho dovuti praticamente struccare perché da lì si sono fissati e lì sono rimasti. Veramente fantastici. Però non mi sapevo decidere, non l'ho presi. Ho preso due Mr. Smoky Eye Pencil. Una è la numero 6. Questa qui. Ed è... Un colore borgogna. È questa qui. È un... Sì. Un borgogna. E ha dei riflessi... Non so se li vedete. Però è molto bella. E queste venivano 6,90. E l'altra che ho preso è un verde scuro grigio. È la numero 13. Ed è un verde scuro grigio. Non so come definirlo. Con tutti questi glitter. Forse un nero. Sì. Un nero con tutti questi glitter. Qui. Anche questa è molto molto bella. Mi sono piaciute anche le palette. Solo che non ho avuto modo di sbocciarle per bene. Perché andavo abbastanza di corsa. Quindi non l'ho presa. Però la numero mi sembra 0,3 Ebony. È veramente bella. Solo che non ho avuto modo di sbocciarle bene. Quindi non l'ho presa. L'ultima tappa l'ho fatta da Sephora. Perché Sephora qui da me c'è. Però lo stand Urban Decay è stato tolto. E lo stand della Too Faced è stato tolto. Quindi non abbiamo nessuno dei due stand. Ho preso una matita di Sephora Long Lasting. Col Pencil. Questa qui. Quella color carne. Diciamo. Che mi ricordo che diverse ragazze avevano detto. Che scrive all'interno dell'occhio. Quindi l'ho voluta provare. Ed è questa qui. Questa veniva a 4 euro da Sephora. Quindi l'ho presa anche per questo. E poi sono andata a sbocciare la Chocolate Bar. E mi è piaciuta tanto. Subito. Ma sinceramente perché. L'ho vista in diversi video. Ma secondo me dal video non rende molto. Vista dal vivo i colori mi sono piaciuti tanto. E ci ne sono alcuni che secondo me sono anche abbastanza particolari. Rispetto alle altre palette comunque nude diciamo che ho io. Vai a parte il profumo che è fantastico di cacao appena l'aprite. Però gli ombretti sia per la scrivenza che per la sensosità sono veramente secondo me fantastici. Vabbè la conoscerete tutti. La palette è questa qui. E io l'ho utilizzata solo una volta quindi non so dirvi molto. Però trovo che ha dei colori veramente particolari alcuni perlomeno. Cioè per esempio questi due a me piacciono molto. Cerchiamo un dito pulito. Ok. Questo e questo qui sono due colori che a me piacciono molto. E un altro che comunque trovo molto carino è questo colore qui. E poi non li ho provati tutti quindi anche questo è un colore molto bello. Eccoli qui. E come scrivenza io li trovo veramente buoni. Eccoli qui questi quattro. Li trovo veramente buoni come ombretti. Poi non lo so io non ho altre palette della Too Faced quindi non so dire altro. Avevo finito la memoria sul telefono. Comunque stavo dicendo che questa palette l'ho presa con il 15% di sconto da Sephora. Perché c'è un gioco sul sito che mi sembra si chiami Summer Ball. Dove voi partecipate ma comunque vi danno un 15% di sconto. Sia da utilizzare online sia stampando l'email che vi arriva da utilizzare il negozio. E l'ho pagata mi sembra sui 36 euro. Non lo so se siete interessati a fare qualche acquisto da Sephora. Magari al momento potete andare a dare un'occhiata al sito perché c'è la possibilità di giocare mi sembra fino al 31 agosto. Quindi se siete interessati magari andate a dare un'occhiata. E ecco ragazzi questi erano tutti i miei acquisti e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!